Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per incidente tra Incideregello e Valdarno in direzione di Roma, in carreggiato opposto a rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Troviamo inoltre coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e coda verso Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sulla Firenze Mare rallentamenti a code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo ai Fipili dove troviamo rallentamenti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiato opposto rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci. A Firenze è traffico molto sostenuto sulle principali direttrici di ingresso città, in particolare sulla direttrice Portal Prato-Fortezza-Piazza della Libertà nella zona di Novoli, via Bolognese e Coverciano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!